Ciao, sono Vit dell'Associazione Sottosopra. Vi do il benvenuto a tutti in questo documentario che mette in evidenza il nostro viaggio dell'Associazione con la struttura sanitaria di Mangunda in collaborazione con l'ufficio sanitario del distretto di Tiolo. Per favore, stiamo insieme attraverso questo interesse e questo fantastico viaggio trascurare, lo adorai. Per il nostro magnifico reparto di Gaetrico all'avanguardia, siamo grati alle seguenti famiglie e partner per la loro assistenza incondizionata quando ci avviciniamo a loro, la famiglia Iotti, la famiglia Sedoni, la famiglia Bellati, i nostri amici Coine ed Emil Banca. Grazie alla loro assistenza finanziaria, il reparto di Gaetrico è qui. Grazie a tutti per il supporto. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.